Una domenica alle urne, quella del 3 aprile in Serbia, i seggi sono aperti dalle ore 7. Si vota per le parlamentari anticipate, le presidenziali e le elezioni amministrative in 14 comuni, fra cui la capitale Belgrado. Circa 6,5 milioni di elettori scelgono quindi il presidente, un nuovo parlamento e le autorità locali. Il presidente uscente, Aleksandar Vucic, è molto ottimista. Ci aspettiamo una grande vittoria. A questo scopo abbiamo lavorato sodo negli ultimi 4-5 anni. Proseguiremo gli sforzi, naturalmente, per un grande contributo allo sviluppo di questo paese. I sondaggi confermano la vittoria di Vucic, che dovrebbe aggiudicarsi altri 5 anni di governo con il suo partito progressista di destra, che potrebbe dominare ancora il Parlamento con 250 membri eletti. L'opposizione ha però la possibilità di conquistare la maggioranza a Belgrado, cosa che assesterebbe un duro colpo all'egemonia dei populisti in Serbia.